Ciao ragazze, allora nuovo video questo, come avete letto dal titolo, sarà il video riguardante tutte le novità della settimana Lidl che saranno valide dal 28.05 al 3.06 quindi ultima settimana di maggio, inizio di giugno come sempre mi vedete qui in macchina perché sono in pausa dal lavoro e visto che per questa volta ero abbastanza vicino da Lidl durante la pausa ho pensato di venirmi a fare una bella passeggiata ho preso con l'occasione il nuovo volantino allora, come prima cosa sarà la settimana dei sottoprezzi abbiamo infatti alcuni prodotti di marca in promozione ma anche le solite carni e la solita verdura proseguendo troviamo poi in primis il deodorante questo qui, Deo Vapo della Neutro Roberts diverse profumazioni da 2,99 a 2,29 con il 23% di sconto e vi ricordo che c'è anche questo rosso che ha inci ottimo però ragazze, ve l'avevo già detto in un altro video in cui appunto l'avevo già trovato in promozione da Lidl che su di me non fa alcun effetto non è uno dei miei deodoranti preferiti nonostante appunto abbia buon inci perché non contiene sali di alluminio, alcol e parabeni e anche moltissimi di voi mi hanno detto che hanno provato anche la nuova formulazione e ho letto appunto tra questi commenti che non vi siete trovate molto bene sempre in promozione a 1,39 anziché 1,79 con il 22% di sconto abbiamo il famosissimo leva smalto a immersione Sien quello della collezione permanente io ho provato quello della limited edition ve l'ho detto anche in uno degli ultimi video vi posso dire che mi sono trovata molto bene e credo che anche questo sia lo stesso un ottimo prodotto poi il prezzo è fantastico devo dirvi che questa settimana la maggior parte del volantino riguarda a voglia di grigliata da giovedì 31,5 troviamo un mix di prodotti appunto da mangiare all'aperto con gli amici, parenti eccetera di vari mart come anche tantissime bibite ed attrezzi per il barbecue riguardo promozioni extra alimentari troviamo fresche idee colorate per il tuo party estivo con stampi per ghiaccioli, vassoi, sorbettiera questa molto interessante a 24 ore e 99 frullatore e tritatutto due in uno insomma tantissimi prodotti per questo caldo che finalmente sta arrivando contenitori, questi sono ottimi da portare al mare insalatiere, posate eccetera anche prodotti per il giardino come ad esempio le luci o le lanterne tornano poi tutti i prodotti della Parkside e poi nuovi prodotti per il bagno del marchio Mio Mare come ad esempio questa lampada led ricaricabile con specchio per trucco 24 ore e 99 lo specchio è girevole ed è una vera e propria postazione make up davvero fantastica ma anche tappeti, asciugamani eccetera e poi è tornato cattivissimo me con tutti i prodotti wow per i bambini perché naturalmente per noi non c'è quasi nulla questi pigiami sono davvero carinissimi e anziché 5,99 4,99 euro però le misure vi ricordo che sono da 2 a 10 anni ragazze con questo è tutto per il nuovo volantino della settimana ma mi premeva prima cosa farvi vedere alcuni prodotti che ho acquistato ora e seconda cosa parlarvi di altre cose che ho appena visto da Lidl in primis oggi ho ripreso il balsamo necessitavo di un balsamo perché sono terminati tutti quelli che avevo l'avete visto anche nei prodotti finiti e visto che mi trovavo qui nella mia filiale ed era rimasto qualche balsamo della PHBio ho approfittato e ho preso questo altimo per capelli grassi e con forfora perché mi ricordo che mi piacque tantissimo anche se io tendo ad avere i capelli più secchi c'era anche disponibile quello alla vena però ragazze non mi era piaciuto tantissimo in passato quindi ho voluto riprendere questo vi ricordo che della PHBio per ora troviamo in collezione permanente shampoo e bagno schiuma mentre tutti gli altri prodotti quindi balsamo, detergente intimo, maschera, crema corpo eccetera sono tutti limited edition e sia dei prodotti in collezione permanente che questi della limited edition trovate la review qui sul canale e poi per questo pomeriggio di lavoro ho preso semplicemente l'acqua poi cosa importante e qui voglio che mi aiutate voi sono rimasta alquanto a bocca aperta perché ho visto che finalmente da me dopo che Lidl aveva annunciato questa cosa su Facebook sono arrivati dei nuovi prodotti di makeup nello specifico adesso ve la metto molto veloce sono blush, smalti effetto gel le ciprie, le ciprie e una matita per occhi e una matita per sopracciglia ora, dato un po' questi prodotti non ho visto bene l'inci perché comunque voglio venire con calma dopo che voi mi avrete fatto sapere quindi stoppate adesso il video lasciatemi un commento qui sotto dicendomi se può interessarvi un video su questi nuovi prodotti di makeup sto insistendo così perché sono prodotti in collezione permanente quindi non prodotti in limited edition come tutte le vecchie collezioni makeup come ad esempio la tropical summer no, questi li troviamo proprio insieme a tutti i prodotti Sien quindi se volete che io dia un'occhiata all'inci se volete che magari li provi per un po' di tempo fatemi sapere nei commenti e io vi farò un video special che giorno fa vedendo su Instagram il profilo appunto Instagram Lidl adesso lo rimettiamo al volo ok ho visto che sono state lanciate delle novità nel senso che prima cosa il 18 giugno quindi segnate la data vedrete comunque vari video sul canale perché già ho visto cose bellissime uscirà una nuova collezione di abbigliamento Esmara by ID.com e si chiamerà Let's Love Summer quindi tantissimi prodotti estivi sono tornati naturalmente i solari Sien è disponibile anche il servizio Lidl Viaggi e vi lascio il codice sconto che mi ha messo a disposizione Lidl per noi ed è un 10% di sconto entreranno anche tra i prodotti alimentari Lidl una linea che riguarda il food street quindi strada del gusto e poi saranno introdotti nuovi prodotti biologici con questo ragazze è tutto mi raccomando fatemi sapere nei commenti se possono interessarvi i video di cui vi ho parlato adesso io vi mando un bacio grande ricordatevi sempre di lasciarmi un bel pollice in su di supporto di iscrivervi al canale attivando la campanellina e noi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao